La Farnesina non era corrente del provvedimento di rimpatrio forzato, lo precisano fonti del Ministero mentre si attende a breve la relazione del capo della Polizia Panza dopo l'indagine urgente richiesta da Palazzo Chigi per chiarire la vicenda che ha portato alla revoca del provvedimento di rimpatrio. Alma Sharabbaiva e la figlia di sei anni ora potrebbero tornare in Italia, un via libera che però difficilmente vedrà la moglie del dissidente kazako Ablyazov rientrare nella villa di Casalpalocco dove la notte del 29 maggio fu prelevata con la piccola alua in un blitz della Polizia. Obiettivo il maggiore oppositore del dittatore Nazarbayev di cui però non c'era traccia. Su di lui penne un mandato di cattura internazionale per una presunta truffa da 4 milioni e mezzo di euro. Chialabbaiva è sottoposta all'obbligo di dimora in quanto colpevole di essere familiare di un dissidente. Si trova ad Almati, la ex capitale Alma Ata, è accusata di essersi procurata il passaporto per il marito e i familiari in cambio di tangenti. Subito dopo il rimpatrio le autorità kazache su sollecitazione della farnesina hanno messo per iscritto che tutti i diritti e le libertà della signora Chialabbaiva come previsto dalla legislazione kazaka e dalla legge internazionale sono pienamente rispettati e garantiti dalle forze dell'ordine del paese. Ma Ablyazov che ha ottenuto nel 2009 asilo politico a Londra rivolge un appello al presidente del consiglio grazie per questa sua decisione coraggiosa ma adesso temo che il regime di Nazarbayev reagirà mandando mia moglie Alma in prigione e la mia bambina Aloa all'orfanotrofio. Ora si trovano in una situazione di grave pericolo. È possibile che nessuno abbia messo a corrente i ministri dell'interno, della giustizia e degli esteri né il presidente del consiglio. La farnesina oggi precisa di non aver ricevuto dalla questura di Roma informazioni sui provvedimenti di espulsione ma di aver solo risposto ad una richiesta di informazioni su un'eventuale copertura diplomatica di Alma Chialabbaiva. Il provvedimento della prefettura di Roma parla di rischio di fuga perché la straniera è in possesso di un passaporto diplomatico alterato contraffatto. Dopo il blitz di Casal Palocco le autorità kazache si congratulano con l'ufficio immigrazione. Il 31 maggio all'aeroporto di Ciampino Alma Chialabbaiva e sua figlia vengono consegnate alle autorità kazache che le riportano in patria.